Buongiorno, buongiorno da Fatti e Misfatti, abbiamo seguito anche ieri tutto lo sviluppo di quello che sta succedendo nel Mediterraneo, il Medio Oriente, oltre il mare e qui davanti a noi, Libia e anche avanti e indietro dall'Italia, perché molte cose sono successe anche qui. La situazione è molto complicata, perché sono complicate le alleanze che cambiano, girano ad ogni minuto. Ieri l'annuncio di un possibile cessato il fuoco in Libia della guerra che stanno combattendo Aftar e Serraje è stato dato da Turchia e Russi. Turchia e russi sono, se andiamo indietro nella storia nei secoli, l'impero ottomano, l'impero russo. Torniamo a tempi molto antichi, sembra che non ci sia mai stato un altro tipo di ordine nel Mediterraneo. Si torna a quello, poi Aftar e Serraje erano tutti e due invitati in Italia. Sto solo riassumendo cose che sapete, Aftar è venuto e si è incontrato col Presidente del Consiglio. Sarraje ha saputo della presenza di Aftar, non è venuto, ma era andato a Bruxelles dove aveva incontrato il Presidente del Parlamento europeo Sassoli. Io adesso trovo difficile, abbiamo fatto una lunga chiacchierata due giorni fa con Tony Capozzo, mi sembravano semplici e chiare alcune cose, ma trovo difficile trovare un bandolo della matassa dal punto di vista di noi italiani, cheppure siamo europei e cheppure stiamo in questo tipo di contesto in maniera anche rischiosa e pericolosa, se non attraverso una riflessione appunto che chiama in campo l'Europa. E allora ho scelto di invitare, come tante altre volte su questi temi, ma oggi a maggior ragione, Antonio Tajani che è stato Presidente del Parlamento europeo, che è il Vice Presidente di Forza Italia, che di queste cose insomma un po' di più della media ne capisce, forse anche un po' di più di quelli che ci governano, perché ieri c'è stato un bel pasticcio, ora magari ce lo commenta e ce lo racconta lui e poi vediamo di trovare un filo sul quale cercare di capire che cosa succede e che cosa succederà. Buongiorno, buongiorno Tajani, io... Buongiorno, buongiorno direttore, ciao. Mi affido molto, guarda, ci diamo del tu da 40 anni, quindi non vedo il motivo per sospendere adesso, mi affido a te, ieri sera l'ho proprio detto in riunione, ho detto qua, chiamiamo almeno uno che ci spiega cosa potrebbe fare l'Europa e dove non stiamo facendo bene. Il primo dato che emerge è che l'Italia e l'Europa sono completamente fuori dalla partita libica e dalla partita medio orientale. Cosa bisogna fare? Bisogna tornare ad essere protagonisti, ma per tornare ad essere protagonisti come Europa e come Italia bisogna fare una serie di scelte. Innanzitutto trovare una unità all'interno della Unione Europea. Se l'Italia e la Francia invece di giocare una partita molto particolare in Libia, legata soprattutto ai pozzi di petrolio, avessero trovato una coesione, oggi non ci troveremmo turchi e russi a decidere i destini della Libia, probabilmente avremmo l'Europa. Ma questa è una cosa che ho detto da tempo, lo dissi anche tornando dalla mia visita in Libia un anno fa, quando ero Presidente del Parlamento raccogliendo le richieste dei libici che dissero se voi europei continuate a litigare e ad accendere lo scontro tra Al-Sarraji e Haftar perderete qualsiasi possibilità di contare e invece la situazione peggiorerà. Così è stato. Io ho lanciato tanti appelli anche attraverso la vostra emittente perché l'Italia e la Francia rinunciassero in parte ai loro egoismi per trovare una posizione unitaria. Non sono stati capaci di farlo, l'Europa è stata completamente assente e direi che in questo momento anche il lavoro di Borrell ha lasciato molto a desiderare, non abbiamo visto un alto rappresentante alla guida di un'Europa che vuole essere protagonista, ma per essere protagonisti bisogna fare due cose, avere finalmente una politica estera unica e avere uno strumento militare europeo. Noi oggi abbiamo di fatto 28 eserciti che fanno tutte le stesse cose, spendiamo circa 200 miliardi di euro ogni anno per la difesa in Europa, gli americani ne spendono un po' più di 600, ma il rapporto un terzo non è quello che da un punto di vista politico-militare. Gli Stati Uniti oggi contano ancora, si stanno ritirando lentamente però dal Nord Africa e dal Medio Oriente e questo imporrebbe all'Europa di giocare una partita protagonista. Se l'Europa non cambierà passo e non vedo scelte forti e decisive per avere una difesa comune, per avere un esercito comune, una cosa sulla quale Berlusconi ma anche il Partito Popolare Europeo ha sempre insistito, noi ci troveremo i turchi che cercheranno di ricostruire l'impero ottomano e i russi, come dicevi prima, a ridar vita a quello che era l'impero russo e avremo i due grandi contendenti che poi troveranno un accordo per spartirsi non soltanto l'influenza nel Medio Oriente e nel Nord Africa ma anche nei Balcani. Attenzione ai Balcani, più c'è in arrivo il terzo incomodo che sarebbe la Cina che guarda con grande interesse a tutto ciò che accade in Medio Oriente, ivi compreso in Iran, che diventa il grande interlocutore della Cina per avviare e rinforzare la famosa Via della Sieta, che è lo strumento per egemonizzare dal punto di vista commerciale l'Asia e l'Europa da parte cinese. Se noi resteremo a guardare rischieremo di essere sempre più marginali, non solo come italiani ma come europei e non contare nulla. E già è vero che l'asse economico mondiale sta spostando sempre più verso Oriente. Noi dovremmo avere un sussulto di dignità, trovare leader capaci di mettersi alla guida dell'Europa per fare delle scelte coraggiose e permettere al nostro continente di contare di più. Perché sono in bali i nostri interessi energetici, economici, militari, di stabilità. Stiamo purtroppo assenti e contiamo zero. E vedi, guarda, io quando sentivo questi discorsi, che ricordo benissimo, perché sono stati fatti due anni fa, l'anno scorso, perché quando gli Stati Uniti hanno deciso abbandoniamo il Nord Africa, abbandoniamo il Mediterraneo, perché loro sono rimasti in parte diciamo nel Medio Oriente, ma non sul Mediterraneo, l'hanno abbandonato e stiamo parlando ancora dell'amministrazione Obama. Quando dissero questo, io già pensavo non è un segno positivo, non è un segno positivo perché ci stanno dando una pacca sulla spalla e dicono fate voi, adesso vediamo. Tra l'altro lo condirono, Obama è il primo, lo condirono, ti ricordi benissimo, con quel discorso noi abbiamo speso per la difesa, adesso spendete voi e noi e l'Europa è stata ferma. Però quando sentivo questi discorsi, poi a molti in Italia, vedevo le reazioni, sembravano una predica filoeuropea rivolta ad un paese che invece testardamente diceva no, noi siamo sovranisti, pensiamo a noi, eccetera. Ma adesso che sta succedendo qualcosa di immediato, di veloce, di repentino, di terribile, parlano le armi, parlano le armi. Io sono anche un po' spaventato del fatto che non solo siamo completamente marginali in quanto Italia, e già questo è un fatto grave, ma siamo completamente assenti in quanto Europa, rischiamo di essere travolti in quanto Europa, il che significa che per esempio gli altri due paesi, i sornioni grandi che stanno a guardare sono la Germania e la Gran Bretagna. È vero, la Gran Bretagna ha fatto la Brexit, ma questo non li porta fuori dall'Europa, non è perché hanno fatto la Brexit che possono pensare di stare accucciati, diciamo per esempio a Tripoli nella base navale, hanno sempre difeso Sarraggi, tu sei sbarcato là, lo sai benissimo, però dice a noi vediamo alla fine cosa succede e non sono più quei tempi lì, quei tempi del Medio Oriente in cui poi venivano chiamate le potenze a tracciare le linee, oggi sono tempi molto differenti, i chi vogliono arrivare al petrolio libico e se ricostruiscono l'asse sul petrolio libico è difficile tornare indietro. I russi sono in Siria con la base navale, nel Medio Oriente ci sono, vogliono contare nel Mediterraneo più degli americani e noi siamo dei nani se non abbiamo un esercito europeo, perché stanno parlando le armi, abbiamo i nostri soldati armati nelle missioni a rischiare la vita, ma non abbiamo un esercito europeo per difenderci e difenderli. Ecco, questa è una cosa assurda, no? Assolutamente, sono assolutamente d'accordo Paolo su questo, c'era un bel editoriale oggi di Sallussi sul giornale che insisteva su questo argomento, che poi è una battaglia tradizionale del mio partito, di Forza Italia, di Berlusconi, ha sempre insistito sulla necessità di avere un esercito europeo per contare di più. Si diceva nell'Ottocento che non si fa politica estera se non si batte bandiera, se vis pacem parabellum, dicevano i romani, non si tratta di essere dei guerrafondai. La polizia e i carabinieri sono armati, certo sono armati per garantire la sicurezza, mica per sparare addosso alla gente. Noi dobbiamo avere uno strumento forte di politica estera che garantisca una presenza politico-militare nelle zone più complicate del Medio Oriente e del Mediterraneo al fine di tutelare i nostri interessi economici, di affrontare anche la lotta contro il terrorismo. Attenzione, perché quello che sta accadendo in Iran, io mi auguro che sia gli americani sia gli iraniani facciano calare la tensione, ma questo scontro rischia anche di distogliere l'attenzione della lotta contro l'Isis. Il terrorismo non è finito. Guardiamo, e non ne abbiamo parlato a sufficienza, in questi giorni ci sono stati attacchi in Somalia, ci sono stati attacchi in Kenya, ci sono stati attacchi del terrorismo in diverse parti e si è rimasti sempre in silenzio perché sovrastate le notizie da quelle che arrivavano sia dalla Libia sia dall'Iran e dall'Iraq. Ma c'è un'offensiva terroristica ancora in corso nel corno d'Africa, non sottovalutiamo questo aspetto perché sono tanti gli elementi di tensione e l'Europa sembra inerte, imbelle di fronte a quello che sta accadendo e poi non possiamo noi separare i nostri destini da quelli dell'Occidente, noi dobbiamo avere un saldo rapporto con gli Stati Uniti, questo non significa fare i cagnolini degli americani, ma avere una solida alleanza, rinforzare la Nato e avere nell'ambito dell'alleanza occidentale una forte difesa europea, ecco errore quello per esempio della Presidenza di turno finlandese che vuole tagliare i fondi per la politica della difesa così come proposto dal Parlamento europeo, noi avevamo inserito un bel pacchetto nel bilancio comunitario anche per innovazione e ricerca nel settore della difesa, la Presidenza finlandese ha tagliato questa proposta che per noi è inaccettabile, dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte e rischiamo di essere a Bisanzio, mentre si parla del sesso degli angeli il nemico avanza e conquista la città, l'Europa purtroppo dorme, deve svegliarsi, io non sto vedendo il necessario salto di qualità, troppo presi da piccole cose, ma non consci di quello che sta accadendo nel mondo, c'è una sfida con la Cina da un punto di vista economico e commerciale, occhio a quello che succede con il 5G, occhio a quello che succede con la via della seta, più c'è la Russia, più c'è la Turchia, forse dovremmo lavorare per stringere un rapporto più forte con la Russia che è un interlocutore naturale, o meglio dovrebbe essere un interlocutore naturale, ritornare a quella che era la politica che aveva svolto l'Europa quando Berlusconi guidava il Consiglio europeo che mise seduti attorno a un tavolo a pochi chilometri da qua, pratica di mare, Putin e Bush per rinsaldare l'Occidente, ricordiamoci che la Russia è un grande paese cristiano e condivide con noi alcuni principi, non siamo uguali, ovviamente la Russia ha delle responsabilità, ma non possiamo spingere la Russia nelle braccia della Cina e farla diventare il principale interlocutore della Turchia, perché non è il nostro interesse. Lì, guarda, hai detto una cosa interessantissima, però lì c'è un rischio grosso, no? Ho capito bene io che c'è il rischio, perché a noi converrebbe in questo momento fare quello che fa Erdogan, ma farlo come Europa, cioè dire, visto che la Russia è in campo e comunque è in campo con una sua difesa, l'Europa e la Russia possono trovare un punto comune ed è un assestamento. Però questo, e tu lo sai benissimo, benissimo, fa molto innervosire gli americani, fa molto innervosire gli americani. Allora, questo è un rischio, è un rischio per la sicurezza, la stabilità, perché non è una buona politica. L'altro giorno scriveva Panebianco, domenica scorsa, sul Corriere, non so se l'hai letto, dice, dopo la cosa di Suleimani, ha detto, qui in Italia c'è gente che finge che noi stiamo lì a guardare come se fossimo arbitri, come se fossero due cose in cui non centriamo l'Iran e gli Stati Uniti, ma non è così, noi siamo per forza da una parte in tutto il secolo scorso, abbiamo poi soprattutto nella seconda parte, dopo la seconda guerra mondiale abbiamo acceso il rubinetto del gas, perché c'erano le navi americane davanti alla costa del Medio Oriente, no? Ma noi dobbiamo stare assolutamente dalla parte della Nato, di una coalizione occidentale, non possiamo snaturarci, è la nostra storia, è la nostra identità. Questo, ripeto, non significa dire sempre sì agli americani, ma più siamo politicamente deboli, più siamo militarmente deboli, dovremmo sempre dire sì a qualcuno. Il rischio è, caro Paolo, e qua neanche l'arbitro facciamo, perché almeno l'arbitro sta in campo. Noi siamo i tifosi che guardano fuori la partita sugli spalti, ma almeno l'arbitro usa il fischietto e decide qualche cosa. Noi non decidiamo nulla, siamo lì a guardare, rischiando poi di perdere sempre più peso, ma c'è un problema che riguarda la nostra sicurezza energetica, riguarda l'immigrazione, riguarda il terrorismo, riguarda anche la nostra attività commerciale. Noi siamo l'Italia, ma anche l'Europa, è una realtà anche votata alle esportazioni, dobbiamo guardare quali sono i mercati che ci interessano, nevi compreso l'Iran, dobbiamo comunque garantire la sicurezza di Israele, che è un nostro interlocutore. Ma se non diciamo nulla, non facciamo nulla, rischiamo di essere veramente una canna al vento e non riusciamo a tutelare affatto i nostri interessi, diventeremo sempre più marginali. Ma ripeto, non è soltanto una questione italiana, lo dicevi bene all'inizio, è tutta l'Europa che rischia di essere sempre più marginalizzata. Da protagonista rischia di diventare spettatore, neanche arbitro, mentre avrebbe un grande ruolo da giocare. Ricordiamo che siamo il più grande mercato del mondo, abbiamo delle potenzialità enormi, abbiamo dei settori che sono all'avanguardia, abbiamo dei comparti industriali anche nel settore della difesa di altissimo livello, di altissima qualità, pensiamo anche a quello che sappiamo fare nello spazio. Ma se non abbiamo il coraggio di investire, se continuiamo veramente a fare delle politiche gretto nazionaliste, senza alcuna prospettiva, senza alcuna visione, senza capire cosa succede nel mondo, saremo destinati veramente a scomparire, a contentarci di qualche briciola che cadrà dal cielo. Ma l'Italia e l'Europa saranno veramente una parte veramente marginale del mondo. Certo, però ti chiedo di tornare un attimo, io sono d'accordo su questo sviluppo che stai facendo te, ma per questo anche volevo sentirlo con chiarezza, ma ti chiedo di fare un passo anche sui fatti italiani, perché poi nel pieno di questa cosa è chiaro che noi dobbiamo convincere l'Europa a fare delle cose. Abbiamo avuto un mandato comunque, perché la Libia ci interessa, abbiamo le nostre aziende energetiche in Libia e il rischio è grande. Allora, ci hanno dato, per esempio, tempo fa gli Stati Uniti un mandato dicendo, va bene, la Libia è una cosa che dovete vedere voi, lo sai che se ne sta ancora discutendo sull'iniziativa di Minniti, sul fatto di portarle in Europa. Però, ecco, qui ti voglio dire, in questo momento noi abbiamo le forze adeguate, perché ieri è stata una giornata incredibile italiana. Adesso ti parlo del fatto italiano, non più del fatto europeo, Libio. Ieri l'Italia ha deciso che prendeva un'iniziativa. Prima si pensava di andare a fare una conferenza di pace a Tripoli, nessuno ci può andare perché nessuno garantisce la sicurezza di nessuno. Allora ha deciso di chiamare qua tutti e due i contendenti come se avesse la forza per mettere al tavolo. Non sono venuti tutti e due, ne è venuto uno solo. C'era il Presidente del Consiglio che sembrava concorrente del Ministro degli Esteri che non c'era, ma è una cosa quasi grottesca, no? È molto triste, lo dico da italiano che passa molto tempo fuori dai confini nazionali, vivendo due terzi della settimana a Bruxelles. L'Italia non è neanche marginale, rischia di essere ridicola in questa fase. Non ha in politica estera nessuna iniziativa, nessun coraggio. In Libia abbiamo giocato una partita inesistente. Non siamo stati capaci di essere interlocutori, non siamo stati capaci di trovare un accordo con la Francia. Non siamo stati capaci di giocare alcun ruolo da mediatori, balbettando scelte e spostandosi da una parte all'altra. Non siamo credibili né con gli Stati Uniti, né con la Russia, né con gli altri. Guardiamo tutti i tentenamenti che ci sono stati. È stata significativa l'assenza italiana nella vicenda del Venezuela. Noi ci siamo schierati, non scegliendo Guaidò, dalla parte di Cuba, dalla parte della Cina, dalla parte della Turchia contro la libertà, contro la democrazia, contro gli Stati Uniti. Perché? Perché c'era qualche capriccio di Di Maio e dei Cinque Stelle che non avevano il coraggio di fare delle scelte. Ma guardiamo come si conduce la nostra politica estera. Noi siamo un grande paese, siamo la settima potenza industriale del mondo, siamo la seconda potenza industriale d'Europa. Abbiamo una politica estera ridicola, siamo inesistenti. Il ministro degli esteri che gira e non si sa dove va senza svolgere un ruolo, senza essere autorevole, senza essere credibile. Io non ne faccio un fatto personale, ne faccio una questione di credibilità del nostro paese. Ma io mi ricordo quando c'era Berlusconi che parlava con Bush, con Putin, con tutto il mondo e l'Italia era rispettata. Le nostre imprese facevano affari, le grandi infrastrutture. Penso al raddoppio del canale di Panama. È stata la più grande opera infrastrutturale del secolo. È stata fatta da un'impresa italiana insieme ad altre due imprese europee. Oggi non contiamo più nulla per colpa di dilettanti allo sbaraglio. Io non voglio essere severo, ma purtroppo sono costretto a dire anche parole che non vorrei dire nei confronti di un governo di dilettanti allo sbaraglio. La politica estera è una cosa seria. Questi signori non sono in grado di farla. Due governi conte hanno isolato l'Italia, hanno reso marginale, se non ridicolo, il nostro paese. Mi piange il cuore a dire una cosa del genere. Io sono profondamente italiano, ho sempre dato tutto me stesso per far contare il nostro paese fuori dei confini nazionali e continuo a farlo, al di là degli steccati politici. Questi signori sono incapaci, guardano soltanto al piccolo interesse di bottega e questo riguarda il Movimento 5 Stelle, riguarda anche il Partito Democratico. Pensate soltanto, io quando divenni commissario europeo, ma anche quando divenni Presidente del Parlamento chiese al Partito Democratico di indicarmi una persona da inserire nel gabinetto perché fosse rappresentata tutta l'Italia, nel gabinetto del Commissario italiano, Vice Presidente della Commissione e del Presidente del Parlamento europeo. La sinistra non ha mai fatto questo, ha pensato soltanto ai propri interessi di bottega per cercare di avere più potere, ma senza guardare all'interesse nazionale del Paese. Lo stesso sta facendo questo governo. Bisogna dirlo in maniera molto chiara perché purtroppo manca il senso istituzionale, caro direttore, manca il senso dell'istituzione. Si gioca una partita di Serie A dove i giocatori che noi abbiamo messo in campo possono giocare in seconda categoria. Questo è purtroppo quello che emerge. Serve ben altro. Facciamo il confronto, inutile parlano tanto. Il governo Berlusconi aveva in campo un leader in grado di far contare il nostro Paese. Tant'è che la reazione che poi provocò la caduta del governo fu una reazione perché l'Italia contava troppo, perché l'Italia aveva alzato troppo la testa, sia a livello europeo sia a livello internazionale. Però, viva Dio, c'era una politica estera. Dopo ho finito Berlusconi che aveva preso le reti in una politica estera che era stata quella di Craxi e prima quella di Andreotti, ma finito Berlusconi l'Italia non ha più contato nulla. Scelte sbagliate, scelte deboli, incapacità di sapere essere protagonisti. Bisogna cambiare le idee, sono molto chiare che abbiamo. Serve inserirsi in un contesto europeo, far valere le nostre idee, avere una politica estera europea e una politica di difesa europea con un esercito europeo. Ci vorranno alcuni anni, ma cominciamo subito prima che sia troppo tardi, perché sennò veramente diventeremo un grande mercato, certamente economico, ma da un punto di vista politico saremo marginali e diventeremo quasi ridicoli. Ieri, mentre Conte riceveva Aftara, abbiamo visto le immagini, Serragi parlava in Europa con Sassoli. Sembravano due mondi, no? Però è andato a trovare Borrell. E guarda caso, l'incontro che è avvenuto con l'alto rappresentante, è avvenuto alla presenza del ministro degli esteri tedesco. Poi ha incontrato Sassoli come presidente del Parlamento, ma lì c'era il ministro degli esteri tedesco che era quello che cercava comunque di giocare una partita da protagonista. C'era Borrell e Di Maio girava per l'Egitto senza portare a casa nessun risultato. È così. Senti, l'ultimissima cosa veloce. Hai visto sui giornali di oggi che qualcuno dice la proposta Minniti, quella che fu la proposta Minniti di trovare un sistema di stare in Libia, insomma. Vale la pena di portarla in Europa e farla europea? Oggi è materia di dibattito. Volevo sapere la tua opinione. Dobbiamo avere una presenza europea in Libia. Io temo che si arrivi troppo tardi, perché ormai i russi e i turchi hanno occupato il palcoscenico sia da un punto di vista militare sia da un punto di vista politico e temo che ogni proposta sia fatta con grande ritardo. Insomma si chiude la stalla quando i poi sono già fuggiti. Io temo che la Turchia e la Russia abbiano già preso possesso della guida politica della situazione nel Nord Africa con un'Europa che è sempre più marginale e manca il rapporto con gli Stati Uniti, manca la presenza americana. Certo bisogna reagire e non perdere ulteriore terreno. Questo sì. Occhio anche ai Balcani. Non perdiamo terreno nei Balcani perché l'altro settore dove russi e turchi e sauditi stanno lanciando una grande offensiva geopolitica e finanziaria. Noi rischiamo anche lì, occhio anche a quello che sta facendo la Cina, di essere sconfitti da tutti i punti di vista. Bene, mi pare una chiacchierata interessante che ci siamo fatti. D'altra parte siamo partiti dallo stesso presupposto. Noi da soli non ce la facciamo, non ce la potremo mai fare. Bisognerà trovare una soluzione ma bisogna reagire. Bisogna farlo prima che sia necessario per sapere cosa succede in Libia andare a Mosca perché sarebbe terribile se dovessimo poi noi andare a Mosca a trattare la nostra presenza, la nostra sopravvivenza in Libia. Sarebbe il rovesciamento di un secolo, di più di un secolo. Ma noi abbiamo già la dipendenza energetica dalla Russia. La Libia garantiva la nostra indipendenza energetica. Se perdiamo anche quello... L'abbiamo finito. Siamo diventati satelliti addirittura che poi non possiamo più fare nessun accordo che non tenga conto di questa dipendenza. Grazie Antonio Tagliani. Io spero che queste parole arrivino pure a Bruxelles. Qualche varco lo aprano e andiamo avanti e seguiamo la situazione. Fatti e misfatti finisce qui e la linea ora TG.com con gli approfondimenti anche su questi temi subito dopo lo sport. Buona giornata.